L'alba di Ferragosto verrà salutata a Pesaro da una performance capace di unire musica, danza e scultura all'armonia del sorgere del sole. Un programma che dalle 5.45 del 15 agosto darà vita allo spazio in ascolto La Voce della Scultura, quarta edizione del progetto di Wunderkammer Orchestra e Orchivio Loreno Sguanci che per l'occasione omangerà un artista simbolo del territorio come Eliseo Mattiacci e la sua stele riflesso dell'ordine cosmico. Lo spazio in ascolto, La Voce della Scultura è una manifestazione che è giunta al suo quarto anno e nasce da un'idea e da un'intuizione di un amante dell'arte che è Gabriele Laghi che è socio della Wunderkammer, anche sostenitore e che ha deciso di cortocircuitare la Wunderkammer e l'archivio Loreno Sguanci per valorizzare il patrimonio delle sculture di Pesaro creando un dialogo tra differenti linguaggi artistici. Un'alba all'ombra della scultura che si mescolerà ad una liturgia cosmica per percussioni, sassofono e danzatrice. La composizione nasce in forte sinergia con quello che è lo spazio e l'idea anche della partecipazione dell'elemento della danza, quindi è una composizione che parla tantissimo con tutte le altre arti. È una composizione che si struttura in sette movimenti, un richiamo e tre interludi e questi sette movimenti sono tutti dedicati ad un pianeta seguendo l'ordine alchemico dei pianeti quindi da Saturno al Sole e questa liturgia, questa sequenza da Saturno al Sole porta sostanzialmente dalla notte all'alba. Ogni movimento è strutturato secondo caratteristiche ben precise, numerologiche, caratteriali e anche armoniche di suoni seguendo gli studi di Mario Schneider che associa ad ogni pianeta appunto queste precise caratteristiche. Ci sono tre forme d'arte che renderanno questo evento unico, poiché la musica, la danza e la scultura sono tutte e tre discipline che coinvolgono il corpo in un modo o in un altro. Quindi ci sarà una triangolazione che genererà tridimensionalità, volume, abiterà lo spazio e si immergerà in quello che è anche l'arrivo della luce perché appunto essendo un evento che avviene durante il sorgere del Sole inevitabilmente questo porterà una gran forza, una grande energia a ciò che verrà generato.